Salve a tutti, io sono Spina e benvenuti su Roblox, in questa magica, magica... E ci sono anch'io, ci sono anch'io! Ma che c'è questo patato lionico? Magico lion, hai visto che sono anch'io qui con te? In realtà è lion che mi ha portato qui dove mi ha portato oggi, sì. Perché le ho detto, Anna, devi fare i video di Roblox che non fai mai video, sei pigra. Non è vero che sono pigra, no! E dai, non dire queste cose... Non sei pigra, ma sei un po' più sciona. E quindi ho detto, Anna, vieni su questa modalità a prendere i razzi, i passi. Guarda che belli. È una chitarra! Mamma mia, Anna, sono proprio belli. Eh, mamma mia! Facciamo prima una volta... Dunque, ascoltamé, ascoltamé. Allora, io sto vedendo che qua di lato intanto ci sono tante belle cose, tipo negozio, animaletti, razzo... E poi c'è una ruota colorata con un puntino rosso che io clicco e c'è un giro. Ci sono due giri gratis, falli anche tu, la Ionico, dobbiamo vedere cosa ci dà. Primo giro. Allora, mi ha dato una stellina a me? Pure a me cinque stelline. Una cosa strana che non so cos'è. Poi, secondo, mi ha dato... E tante stelline. Bello, accelerazione e più stelline. Ok, dobbiamo fare... Vieni, Anna, dobbiamo fare la modalità, altrimenti ti dicono che ti perdi lì. C'è ragione, ma lo sai che a me piace... Oh, perché c'hai un razzo? Oh, c'hai un razzo! Come funziona? No, è già finito. Ma, Anna, sai perché è andata così? Perché siamo talmente lenti che non... Credo, eh. Eh, mi sa di sì. Perché vedi, qua dice migliora il tuo razzo. Però non hai da migliorare il razzo al momento. Perché ci vogliono 20 stelle. Allora, io ti dico, secondo me, a 49 robux, 100 stelline... Aspetta, no, ascoltami, no, ascoltami. Tra 10 secondi succede una roba che devi cliccare a spam. Io quella cosa la voglio fare di brutto. Ah, quella, quella è importante, sì. Ma di brutto, guarda, tu sei pronto? Qual è la tua tecnica di spam? Clicca! Beh, bene, pazza! Io faccio più tre, faccio più tre! Io due, perché io faccio due e tre? Perché mi è uscita la cosa che posso fare più... Clicca! Ah, hai fatto bene a girare la ruota. Guarda, punteggio massimo 320, 30, 40... Oh, punteggio massimo 334. Adesso sì che secondo me possiamo viaggiare un po'. Proviamo a riprenderlo. Oh, vai, 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 ranziamo! Oh, ce l'ho! Eh, vedi, 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 vedi! Oh, bellissimo! Eh, che figo! No, Lion, che figata! Beh, bello! Ma hai visto che ci sono tutti i pianeti sotto? C'è Marte, Giove, Saturno, Urano. Guarda, è bellissimo! Ah, lei, non so che... La cometa! E poi il Mettuno, e poi extrasolare, e poi galassia. Magellano non so cosa sia. Magellano anche un'altra galassia. E poi lo spazio profondo. Oh, io lì voglio arrivare nello spazio profondo. Ti faccio il tema dello spazio profondo. Vai. Bellissimo! Mi sta inquietando. Sto avendo paura. Basta. Stupida! Non lo fai anche tu! Dai! Non è giusto! Non lo mi ero aggregato e tu ti smetti! Uiii! Adesso, quando torniamo indietro, mi raccomando, compra un pettino, eh. Devi spendere qualcosa. Ma secondo te non lo posso fare già mentre sto viaggiando? Ah, dal negozio tu dici? Allora, io vedo che qui c'è l'autoclick, c'è il dash automatico, c'è il VIP, c'è la ruota fortunata, che è molto interessante, che ti fa uscire il 2% in più di epico uovo leggendario. No, secondo me, fidati della mia esperienza da scioppatore. C'è anche il click per 2. Quando torniamo indietro, tu devi andare a uno delle uova che ti puoi permettere in Robux e comprare quello. E quello ti busta come un drago, fidati. Oh, ma io c'ho una roba. Vedi che sotto c'è la cassa degli oggetti? Io ho una cosa che mi dà più stelle e un altro che mi dà più accelerazione, mi sa. Ah, bello. Però hai notato che siamo già arrivati a Saturno? Vedo! C'è stato anche un po' più avanti, eh, in realtà. E io ho usato l'oggetto che mi dà più stelle alla fine della gara. Brava, sei proprio, ma intanto saranno due stelline cagate, quindi non so, eh. Oh, senti, non ti permettere, io già sono a 19 stelline, ok? Se ne guadagni un'altra potenzio il mio razzone. Va bene, adesso però vai a comprare un bel pettone, perché altrimenti facciamo schifo, eh. Ah, che schifo. Mi sa che l'ho sprecato. Eh, vabbè, vieni, vieni, corri, corri, uno di questi. Come si comprano? Con cosa? Eh, sì. Allora, questo cosa? Aspetta, se... Uh, questo è carino, però ne voglio uno. L'ho preso già. No, no, quello dei Robux devi prendere, dov'è quello dei Robux? Ho preso già, ho preso un gattino, ho preso un gattino. Ma no, che fa schifo, Anna. No, no. No, è costato. Uh, guarda, questo cosa 400. Vai, 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 vai. Non ti dà. Hai tempo, hai tempo, vai. Compro, compro questo pettino. L'ho comprato, si sta prendo. Qua c'è uno da 1500 pure. Che schifo, che brutto. No, no, è buono, equipaggialo. Equipaggialo, però prima, equipaggialo prima. Ma non so che si fa qui, qui. Da animaletti, a destra, animaletti, corri. Equipaggia, equipaggia pure. Clicca, clicca, clicca. Ho toccato ovunque, mi sono spostata la cornice del video, Ettore. Dai. Dai. Sei una sega. Come faccio a riaggiustarla? Ti metti la posta. Non l'ho messa bene. Ok, ecco qua, è fatta. Ok, dobbiamo correre. Vieni sul razzo. Ma quanto hai tu adesso di velocità? Go, go, un K e sei. Ragazzi, guarda, faccio tutte le scie con questo gatto pazzo e questo razzo scarpa. Che schifo. Non è una scarpa, è un razzo normale. È uscito il razzo scarpa, poteva uscire il razzo gatto. Vabbè, hai il razzo scarpa, fessa, fessa. Ma tu non sei partito proprio? Certo che sono partito. Come ti permetti? Ti sto andando, sto andando piano. Ma io non ti vedo. Sto all'inizio. Ah, mamma mia, che scherzo. Oh, non è colpa mia, eh. No, sto scherzando, sto scherzando. Ma giro di nuovo la ruota. Che bello. Mi piace girare. Sta 230 all'ora, ma è uno schifo io. Non posso andare così piano. Prendo questo oggetto, stelle più 100%, lo uso per due gare, sì. Non posso boostarmi la velocità provvisoriamente. Un po' pezzino. Un po' pezzino. Un po' pezzino. Eh? No, no. La smetto, la smetto. Ma non è che ho toccato anche altre cose? Ok, no. Mi auguro di no. Perché non sto partendo più, mi son fermata. Lion, mio Dio. Eh, guarda, sei a Nettuno. Io sono ancora sulla Terra, non lo so. Sto per andare extrasolare. Ma scusami. Ma sei talmente lento che non ti si vede nella barra. Ma non so se è così. Cioè, quanto hai tu di velocità? Oh, un K6. Senti, io ho 230. Dovrei esserci. Cioè, non è tanto più lento di te. Vabbè, non fa niente. L'importante è partecipare. Senti, Anna. Il problema è che non c'è capito neanche se stai partecipando. Ascolta, di solito fai schifo tu, eh. Ti ricordo. E tu ci spefeggi sempre un po'. Comunque la cornicetta non l'ho messa bene. Guarda che belli! Guarda la scarpa! Mi sa che è un topo, in realtà. Ma io non la vedo. Come non vedi i miei pettini? Ah, no, i pettini li vedo. Sì, è una scarpa. Eh, no, in realtà forse è un ratto. Non lo so. Senti, adesso scioppo anch'io. Mi miglioro il razzo che aumenta la potenza di 180. Lo miglioro. Vuoi migliorato il razzo? Io ho scioppato mille stelline. No, ma sei veramente un... Alla faccia tua. E mi scioppo un altro pettino. Scarpa. Mamma mia, ma perché mi escono le scarpe più brutte? Io non lo so. No, bisogna cliccare! Ma io lo compro! Mi pagano già! Clicca, clicca! Ma porca caccia. Clicco di brutto, clicco di brutto. No, Anna. Clicco aggressivamente. Anna, non va bene. Clicco fortissimo. Clicco come una pazza furiosa. Clicco come se non ci fosse... Io non parto, Anna. Ma a me non mi fa scioppare nemmeno i soldi. Sto già partendo, baby. Ma Dio mio, ma guarda che... Il mio razzo fotonico... Ma il razzo è più bello ora che l'ho potenziato! Sto contento per te! E perché non l'hai potenziato anche te, Pino? Lo potenzio, lo poten... Ah, ma sto guadagnando... Ma ti batto adesso. Quanto hai di velocità, baby? Eh, ne ho mille e cinque. Oh! Io ne ho mille e nove. Com'è possibile? Eh, ma siamo lì, eh. Comunque mi sa che... Io ti vedo nella barra. Ma tu a me non mi vedi? No, non ti vedo nella barra. Eh, però stavolta sto andando un bel po' di più, eh, io. Eh, ma non mi puoi superare, no. Eh, no, perché tu sei più veloce ancora. Sì. A meno che nel negozio... No, allora, senti. In questo gioco sono io che sono quella forte. Non tu, ok? Per favore. Lasciami divertire un pochettino, per favore. Ah, capisco, eh. Eh, una scarsa. No, no, non è vero. Voglio arrivare fino alla Galass... No, fino ad Andromeda voglio arrivare. Io credo di essere in zona Urano, perché vedo verde insomma a me. Sì. Speriamo che Urano non abbia scorreggiato, che il verde non siano le fuzze. Ah, 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 come sei spiritosone. Ora sono in prossimità della cometa Halley. Wow, io sto passando da Nettuno ad extrasolare. Oh, wow. E io sto ancora nel blu di Halley. De pentò, de blu. Ma tu hai visto che le vedi le cose? Ma io di più. Io ho superato la cometa. Oh, bello. Sei a Nettuno? Tu sei talmente sega che non vedi le cose che ti passano a fianco. I pianeti e le cose le vedi passare dopo un po'. Sì, le ho viste. Non è vero, perché la cometa era bella e avresti detto qualcosa. Non l'ho visto. Eh, fai schifo, fai. Ero troppo impegnata a prenderti in giro. Ecco, brava, festa. Sono nella galassia ed è bellissima. Guarda che bella. Ah, bene. È bellissima la galassia. Ma io sono ancora in zona netunica. Si vede lontano la galassia. È tipo tutta... Bellissima. Ah, che bello, che bello. Eccoci. Ah, ok. Adesso io ho speso tutto. Quattro giro di ruota panoramica. Uh, accelerazione per due. Un pettino vorrei. Quanti stelline ho? Oh, posso prendere uno di questi. Vai. Magari mi esce quello super mitico. Ma che? Perché non me lo fa prendere? Man, fammelo prendere. No. A me la faccio prendere. Ah, perché devo avere... Ma perché devo avere il razzo a livello 3? Come hai fatto a prenderlo? Ah, perché io ce l'ho. Prima ho potenziato il razzo. Ah, non è giusto. Lo faccio anch'io. Ora c'è il razzo al 3. Ora io ho due pettini. Attenta che ora si clicca e vai. Clicca, clicca, clicca. Per due, più due, clicca. Vabbè. Però io prima cliccavo più assai, eh. Clicca di più. Potenziando il razzo ti ho fregata. Perché ti busta la speed di più assai. A quanto sei? 1.700. 1.700. 2.002. E va, fa un bagno, Anna. Oddio, ho il razzo tutto quello lavico. Ti sorpasso, ciao, baby. No, no, no. Oh, la luna. E questo qui che cos'è? Eh, sì, ti ho visto passare. Marte, bello. E poi qui c'è Giove. Guarda com'è bello con tutti gli asteroidi. Bello, Giove. Piace a me. Dai, mi sono passati a fianco le scie dei tuoi pettini. Mi hanno fatto la polvere. Poi qua c'è Saturno, bellissimo. Ti tocco un pochetto. Poi qua c'è Urano. Urano non si vede. No. Perché è Urano. Forse è alla fine. No, poverino. Eccolo, Urano. Guarda che bellino. E poi c'è... La com'è? Che schifo. No, 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 no. Il vaterone, no. Ma la... Urano. Cometa io non la vedo. E quel pallino... Uè, eccola che carina. Bellissima. Wow. Ma neanche adesso puoi recuperare il fatto che non hai visto niente finora, eh. Come non posso? Vedi, l'ho però fatto. All'ha finito il video, devi dire tutte le cagate che non hai detto prima. Esattamente, sì. Funziona proprio così. Adesso guarderò anche Nettuno e sarò esterrefata. Dov'è, Nettuno? Roblox Male by Anna. Smettila. Oh, bello Nettuno! Ah, che bello, eh. Però è extrasolare. Tutti l'hanno visto prima. Non smettila. Ma cosa ci deve essere? Il sole? No, non c'è niente. È tutto un po'... Sei arrivata fino alla fine prima? No, sono arrivata fino a Galassia ed era molto bella. Comunque, io ho visto che alla fine di spazio profondo, vedi lì nella parte destra, c'è un buco nero strano o qualcosa. Eh, ma io non sono abbastanza potente per arrivarci a spazio. Eh, no, però... Galassia è bellissima. Se ci arrivi te la consiglio di brutto. Se nei commenti vogliono che tu faccia un altro video su questa modalità, potremmo riuscire ad arrivare... Fatemelo sapere, magari puntiamo al buco nero. Sì. Ecco, puntiamo a entrare nel buco nero e non dentro urano. No, quello lo schiviamo. No, non ci piace. Quella che bella Galassia. Ora sono a Magellano. Uh, anch'io sono dentro Galassia. Hai visto com'è bella? No, io sono dentro Extra. Extra. Chissà che questo è Extra Solare. Com'era Extra Solare? Era un po' piatto. Sono caduta. Però direi che per adesso ci possiamo fermare, che ne dici? Va bene. Sì. Ti giro intorno con i miei pettini. Mettete un pollice in su perché, Anna, faccio un altro video di Roblox e shoppinghi una di queste navi da molti soldi. Mettete un emote con la nave che devo shoppingare. Una macchina, una chitarra, un pugno o una pistuola? Una pistuola, ecco. E quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!